Bella raga, dunque si è conclusa da poco col derby capitolino questa 32esima giornata, una 32esima giornata poverissima di gol ben 5 sono infatti gli 0-0 ovvero quelli tra Chievo Verona e Torino, tra Atalanta e Inter, tra Fiorentina e Spal, tra Milan e Napoli e l'ultima appunto Lazio-Roma 0-0 e dunque una giornata praticamente povera di gol guardate sono ancora senza voce, sono tornato da poco dello stadio, dunque l'ho sentita per radio e la partita non l'ho vista è stato espulso Lulic per doppia punizione per quanto riguarda la Lazio, una Roma che ha preso in primo tempo il palo con Bruno Perez sostanzialmente si sono equiparate, una buona Lazio nella prima mezz'ora, poi è uscita fuori la qualità degli uomini di Eusebio e di Francesco che mi hanno anche galvanizzati dal successo e dalle semifinali ottenute di Champions League ai danni del Barcellona e il Napoli invece viene fermato a Milano da una strepitosa parata al novantatresimo minuto da Di Gigio Donnarumma su Arkadius Milik sarà squalificato e il prossimo turno si fa monire al novantesimo Koulibaly e salterà la partita contro l'Udinese, era diffidato e dunque a rischio Juventus perché domenica prossima proprio a quest'ora sapremo come andrà da finire il big match scudetto Juventus-Napoli per la Juventus vince 3-0 con uno strepitoso Douglas Costa su una buona Sampdoria soprattutto nel primo tempo una ottima Sampdoria che ha tenuto testa la Juventus senza rischiare poi è entrato Douglas Costa, tre assist, ha spaccato la partita le reti di Mario Mandzukic di Benedikt Ouedes, la sua seconda presenza stagionale firme il gol l'ex capitano dello Schalke 04 e il 3-0 finale firmato da un atto tedesco Samy Kedira dunque Juventus che ne approfitta del pareggio del Napoli a San Siro e dunque va più 6 momentaneamente sui partenopei mentre Lazio e Roma non si fanno male praticamente restano appaiate al terzo e quarto posto con 61 punti l'Inter dunque diventa ancora più amara lo 0-0 a Bergamo contro l'Atalanta ne potrebbe approfittare di questo derby invece resta al quinto posto al momento fuori dalla Champions League per quanto riguarda invece il Cagliari in zona retrocessione si mette davvero con questa vittoria sull'Udinese davvero in rampa di salvezza per l'Udinese la nona sconfitta consecutiva per gli uomini di Massimo Oddo e mercoledì andranno al San Paolo di Napoli con un Napoli molto arrabbiato vediamo cosa succederà il Genoa invece batte di misura 1-0 il Crotone dunque il Crotone che dovrà vedersela ospita mercoledì proprio la capolista Juventus per ora al terzo e ultimo posto solitario perché la SPAL pareggiando 0-0 a Firenze e quart'ultima a 28 il Crotone a 27 in piena crisi invece l'Ellas Verona che cade a Bologna il Bologna consolida il decimo posto in classifica per 2-0 con un gran gol di Simone Verdi dunque per il Bologna mentre è finita 2-2 Sassuolo Benevento e il Sassuolo che ancora è in mischia per la lotta retrocessione dunque non è approfitta della fanonina di coda Benevento e Benevento che ottiene il primo punto in campionato in trasferta grazie ancora una volta a una doppietta quella di Sheik Diabatè terza doppietta in due settimane in tre partite praticamente dunque dopo la doppietta alla Juventus e alla Lazio arriva la doppietta anche al Sassuolo questa volta la sua doppietta porta punti, porta punti importanti e dunque è un ottimo Diabatè che dire 6 gol in tre partite mentre Lazio-Roma ripeto ancora 0-0 dunque questo è sostanzialmente questa 32esima giornata domani mattina, domani in giornata vi farò, usciranno i top flop con le pagelle di Juventus a Sampdoria e in più per quanto riguarda anche domani e dopo domani ci sarà il campionato di Serie B dunque usciranno due video domani per quanto riguarda anche il commento e i pronostici di questa giornata di Serie B e poi naturalmente martedì usciranno i pronostici di quella di Serie A visto il turno infrasettimanale è un po' un casino per il momento è tutto vi aspetto domani sera con l'Arena Sportiva sul canale di Kartal Curva Nord e dunque mi raccomando sembra fino alla fine ciao a io